e i collaboratori. Chiamiamo tutti i collaboratori, Scucci Marri, tutti quelli che sono, venite, venite qua così fate la foto, venite perché è giusto, perché sono collaboratori, sono la macchina, diciamo, il cuore pulsante della loro, di questo mondo TV che è stato anche... La cosa bella è che tutto nasce da una grande amicizia, da menti giovani, menti calabresi, un'idea infatti di alcuni amici nata, cresciuta, in punta di piedi e adesso è diventata un riferimento per chiunque cerchi una serie di informazioni nell'ambito della TV dove proliferano varie informazioni, naturalmente giuste, non giuste e noi quello che cerchiamo di fare è portare avanti l'informazione pulita, bella, positiva e più positiva. Un grande applauso... Grazie, io voglio ringraziare a tutti, voi per il premio, voglio ringraziare i miei collaboratori che sono qui, Lorenzo, Giuseppe, Simona, chi ha creato con me il sito, che saranno sempre gente calabresi, tutti calabresi, Marco che non c'è qui, Andrea, quindi la nostra è un'idea che è arrivata dal nulla ed è arrivata a fare un milione e mezzo di viste mensile. Noi parliamo di notizie TV, seguiamo il gossip, seguiamo tutto quello, il trash che vi piace e che fa seguire i programmi televisioni. Quindi andate a cercare Mondo TV 24, su Instagram così seguite. E niente, e grazie a tutti. Bene, auguri. Allora, chiamiamo Carmen, Enzo, venite Carmen, Carmen, venite qua un minuto così facciamo... Va bene, tanto le foto le facciamo alla fine prima che andate via, va bene? Giuseppe, le facciamo alla fine le foto, se no non ci fermiamo più qua e non andiamo avanti. Dai, grazie Giuseppe. Adesso facciamo intervenire una...